La prima cosa è che mi sono interessato un po' della semantica, cosa voleva dire domotica, perché dicevo così, con una sorta di provocazione, che ripesca un po' nel mio curriculum scolastico, che l'avrei chiamato oicosmotica, perché il greco esprime molto meglio un più ampio significato di casa, che poi è vero, perché la casa in quanto tale noi, i latini prima, la releghiamo in un ambito più ristretto, invece il greco oicos ha un significato molto più allargato. Secondo che volevo sottolineare la mancata, l'assenza di due aspetti importanti nel tessuto informativo dell'associazione, che sono la mancanza fra i vari corpi professionali citati dell'ordine dei commercialisti. Perché questo? Perché in realtà la figura del commercialista potrebbe aiutare a completare anche lo spettro interdisciplinare di cui si occupa la domotica, accanto all'ingegneria, all'architettura, all'elettronica, all'elettrotecnica, e vi discorrendo, al design e a tutto, manca l'aspetto della finanza, perché qui facciamo sempre i conti diceva bene il professore Ragazzoni, gli economisti parlano di economia circolare, io da commercialista dico manca la finanza, perché se non si comincia già ad intravedere quali sono i maggiori mezzi finanziari necessari per poter raggiungere gli obiettivi che alla domotica si pone, credo che manchi un tassello molto importante. Sto parlando di finanza sia pubblica che privata, entrambi gli aspetti. Nel documento programmatico triennale che abbiamo presentato c'è stata una risistemazione delle attività di intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandolo in particolare e abbiamo messo nei cosiddetti settori che io chiamo di serie A, per distinguere da quelli di serie B, non perché siano meno importanti, ma le fondazioni hanno come scopo fondamentale quello di far ricadere nel territorio di propria appartenenza, di far ricadere finanziamenti, erogazioni, sussidi, in questi differenti ambiti di intervento che sono 20 o 21 quelli istitutivi del decreto istitutivo dell'inizio degli anni 90 e seguenti. Nei settori rilevanti abbiamo fatto salire in serie A la ricerca e sviluppo. La domotica non è strettamente, questo intervento non è strettamente da intendersi come un intervento diretto alla ricerca e sviluppo, però è parente stretto, cioè questo intervento ha più una valenza di carattere culturale in questa fase di sponsorizzazione culturale divulgativo, ma la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo progettuale, insomma, è parente stretto di questo settore che secondo me la fondazione deve sempre più curare e noi nel nostro documento programmatico triennale facendo salire nei settori rilevanti serie A questo particolare settore ci riproponiamo di maggiormente finanziare progetti che siano innovativi o di ricerca e sviluppo.